Ciao, sono Giovanni, sono toscano ma vivo a Roma, sono una persona seria e molto professionale. Come butta! Sono alto a 1,77 m, non perdo mai la pazienza e non mi arrabbio mai. Quello che hai ammazzato abitava di fronte a casa tua. Eh? Che, 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 che p***a. Era bellissima. I speak English and I'm very mature. Sono molto maturo. Tu mi avevi detto di fare il pazzo, poi il pazzo mi andava bene. Allora. Ciao. O appoggi anche a Firenze e a Grosseto e non prendo mai papere sul lavoro. Mai. Del rambu. Del rambu no, è che lei è un pesce. Sono una persona elegante, sobria e soprattutto frequento persone sobrie. Non vedo l'ora di conoscervi tutti. Ah. A presto.